La preoccupazione è massima e per Padova, sorvegliata speciale, resta l'area dei colli euganei, compresa la pianura, dove vivono allo stato brado i cinghiali. La peste suina, una malattia virale contagiosa e molto pericolosa per suini e cinghiali, è innocua per l'uomo, ma la sua diffusione rappresenterebbe l'ennesima doccia fredda per gli allevamenti del Veneto, quarta regione produttiva in Italia, con 320 allevamenti professionali e 1.500 allevamenti domestici nella sola provincia di Padova. Massima l'attenzione delle autorità. Per questo facciamo un appello a tutti i cittadini, ai residenti, agli agricoltori, ma anche agli escursionisti del fine settimana, che qualora fossero rinvenute delle carcasse di cinghiali nei colli, queste siano prontamente segnalate al numero della Polizia Provinciale della provincia di Padova, 049 820 19 40, perché intervenire prontamente significa non diffondere questa malattia tra gli animali e quindi salvare l'economia. Se gli agenti della Polizia Provinciale impegnati nel monitoraggio del territorio all'assessore regionale Cristiano Corazzari sarà richiesto un raddoppio del personale impiegato.